Valdarelli, in che condizioni versa la Galleria della Contessa e quali sono le vostre preoccupazioni? Allora, venerdì ho fatto un sopralluogo, sollecitato dai miei imprenditori associati, nel lato Contessa, però al lato marchigiano, che da Cantiano va a Gubbio, perché dall'altro lato so che i lavori stanno andando avanti, vanno avanti sei metri al giorno, così mi hanno riferito, quindi perlomeno il cronoprogramma che si era stabilito con la Giunta regionale, con l'assessore Baldelli e con l'ANAS, quindi sembra che stia andando avanti. Adesso aspettiamo ai primi di novembre un incontro per dirci lo stato dei lavori. A me non preoccupa il lato ombro della Contessa, ma come vedranno anche i cittadini, mi preoccupa il lato marchigiano, perché ho fatto un sopralluogo, personalmente sono andato, perché io prendo visione personalmente della situazione, ho camminato per circa un chilometro, ho constatato delle situazioni un po' anomali, faccio un esempio, il muro di contenimento che contiene la scarpata, io mi sono avvicinato e ho tirato giù con le mani una parte di intonaco e ci sono degli evidenti buchi nel muro, questo mi ha preoccupato. Seconda cosa, c'è un guardrai che secondo me è obsoleto, tutto eroginito, se dall'altra parte abbiamo una bellissima strada, non capisco perché non sostituiscono il guardrai, l'asfalto deve essere sistemato, la segnaletica deve essere sistemata, addirittura, come vedranno anche i cittadini nella foto, mi sono trovato anche una discarica, mi sono trovato un water, allora cosa sono preoccupato? Vuol dire che di qua, nel lato marchigiano, non c'è attenzione e faccio un invito anche alla provincia di Pesaro Urbino, al presidente Paolini, che si confronti in modo attento con il suo collega, è chiaro che la strada è dell'ANAS, però qui parliamo anche della provincia di Pesaro Urbino, quindi è molto importante questa cosa. Come si vede ancora salendo la strada ci sono i lavori dell'alluvione, quindi non vorrei che per i prossimi tempi, diciamo, si rispettano il cronoprogramma, ci troviamo poi, come si apre la contessa, ci troviamo che qua serve un sermaforo oppure addirittura rischiamo di avere un blocco dei lavori, cioè dopo il danno c'è anche la beffa. Quindi allungando anche i tempi? Ma certamente, allungando i tempi, noi abbiamo dei tempi ben precisi, noi non possiamo, allora c'è garantito dicembre, noi bisogna che, diciamo, i primi dell'anno, considerando che ci sarà la neve, ci sarà il tempo brutto, noi dobbiamo avere la certezza. E se questi lavori nel lato marchigiano non sono neanche appaltati, c'è solo una recinzione, come indica l'impresa che fa i lavori, ma non si vedono i lavori, cioè io attendo risposte da chi di dovere, prima dall'ANAS, poi anche, diciamo, dalle autorità competenti. E' chiaro, parliamo di lato Umbria, non posso, però per questo chiedo al Presidente Paolini che scriva al Presidente della provincia di Perugia per capire come stanno le cose. Si deve creare anche un rapporto istituzionale tra le due province.